Signore Harry Potter, ripostiglio del sottoscala 4 Privet Drive Little Wing in Surrey. Wow! Oh, Margie, sta male, le aringhe erano quasi. Papà, Harry, ho ricevuto una lettera. Ehi, ridammela, quella è mia. Tua? E che mai ti scriverete? Niente più poster attraverso questa buca delle lettere. Buona giornata, l'ufficio, caro. Sciù! Via! Bel giorno, la domenica. A mio parere, il migliore di tutti. Sai perché, Dudley? Perché non c'è posta la domenica. Ben detto, Harry. Non c'è posta la domenica. Oggi nessuna maledetta lettera. No, signore. Non una sola dannatissima lettera. Neanche una. No, signore. Neanche una schifosa, miserabile. Neanche una schifosa, miserabile. Che cos'è questa? Mi prego! No! Tommelo! Tommi quella mettera! Lasciami! Lasciami! Le lepre sono mie! Lasciami stare! Dai! Ora basta! Ce ne andiamo! Molto lontano! Dove non possano trovarci? Papà è impazzito, non è vero?